Ciao Toro, bentornato. Oggi è mercoledì, 9 ottobre 2024, e ho delle previsioni speciali solo per te. Sei pronto a scoprire cosa ti riservano le stelle? Oroscopo Toro. Il denaro viene e va, l'amore resta. Una coppia strampalata quella formata dalla luna in sagittario e giove in gemelli, che passa tutti i giorni in banca, lui a depositare, lei a spendere. Del resto il denaro non è forse fatto per questo? Mero oggetto di scambio, per dirla con le parole di Marx Baratto della propria forza lavoro con la vile pecunia. Quello che non si baratta ma si regala soltanto è l'amore e il vostro astro guida venere, innamoratissima di Marte ne sa qualcosa, vi basta dire due paroline al partner per accenderlo di passione e lo stesso accade quando a parlarvi d'amore è lui o lei, con quello sguardo intenso che vi mette i brividi lungo la schiena. Per un dono all'amato bene in vista di un anniversario importante oggi spendete come Nababbi, ma lo fate col cuore felice, è soltanto un pegno d'amore, meriterebbe di più. Desiderio di avere una figlia, e non è escluso che questo possa essere presto e saudito. Innamore il rapporto che si ha è con una persona dalle buone risorse economiche, molto solido, o comunque con ottime e buone prospettive. Sono in arrivo piccoli vantaggi di ogni tipo, particolarmente quelli economici. Oggi inaspettatamente potreste ricevere dei consensi che vi aiuteranno a recuperare fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità. Oggi cercate comunque di paralere poco e agire molto. Eviti di ostentare le tue abilità, anche quando sei sicuro di te stesso. Lo splendido spettacolo di fuochi d'artificio che ti ha ammagliato si sta trasformando in un dragone che ti minaccia. Praticate più la vita reale, staccate un poco dai social. Oggi è un giorno buono per darvi da fare, coltivando amicizie nel reale, predisponendo nuovi rapporti con le persone che vi circondano. Nuovi orizzonti determinati da un influsso positivo di Marte e Giove che favoriranno già nella prima mattinata tutto ciò che inizierete. Anche l'amore sembra ridestarsi e offrire novità. Se pensate di avviare un progetto che vi sta a cuore e ricorre la condizione di chiedere un prestito o un mutuo fate sempre molta attenzione alle condizioni che vi vengono offerte. Ricordate che non sempre quello che luccica è oro, potreste prendere qualche decisione azzardata. Un messaggio in arrivo per voi, cercate di capire bene le intenzioni di chi ve lo manda. È ora di risparmiare ed economizzare, non sperperate e soprattutto datevi da fare per migliorare economicamente. Non abbiate fretta di assumere qualche decisione che per voi potrebbe essere particolarmente importante, soprattutto in amore. Non precipitate oggi situazioni ed eventi. Prudenza. Valutando l'acquisto di un'auto o la ristrutturazione di una casa dovrete sicuramente richiedere un prestito, non fermatevi davanti alle primo proposte, leggete bene le modalità e condizioni per ottenere un finanziamento, e solo dopo aver valutato il tutto provate a richiederlo. Il cielo di pieno autunno vi invita oggi a non abusare delle vostre energie, se siete della seconda decade, avete venere che, dallo scorpione, vi contrasta. Abbandonatevi alle attività sportive e agli esercizi fisici con moderazione. Urano aumenta il guizzo delle idee brillanti, la volontà di muovervi, agire, fare. Potreste essere invogliati a chiedere moltissimo al destino, cercate tuttavia di moderare i vostri desideri e provate a vedere quel che di concreto e di insperato si è già realizzato per voi. Nettuno molto bello promette un'agilità mentale che vi rende più vivaci del solito. Venere opposta a poco da raccontare, la vostra gelosia riecheggia e amplifica la sua, ben espressa in entrambi i casi da Marte Cancerino, taciturno ma non per questo meno urticante, vi bastano poche parole per esprimere una variegata gamma di sentimenti, immaginatevi un pianoforte a coda suonato da agili dita. Superi il lavoro sintetizzato dalla coppia Sole-Mercurio nel segno diplomatico della bilancia e guadagni protetti dal grande Giove in seconda casa e dalla luna in Sagittario che vi parla di valuta estera e mercati azionari, tutti da esplorare. Amore ed Eros. Gelosi e amorosi sono aggettivi che non si sconfessano a vicenda, negli occhi del partner vedete riflessi i vostri stessi sentimenti, torbidi, segreti ma estremamente dolci. Tenerissimo il quattro zampe, che vedendovi vi fa un sacco di feste anche se lo avete sgridato, dimentica presto l'offesa, il suo amore nei vostri confronti e supera tutto. Volete riconquistare qualcuno? Per riprendervi chi amate dovete ricorrere a una vostra dote tipica, il calore umano. Il timorano, Saturno vi consente di attingere alle risorse di slancio e simpatia che assicurano una meritata vittoria, specie se nati in maggio. Avrete presto ragione su tutto quel che vi siete proposto. I due pianeti dell'Eros, Marte e Plutone, tra Cancro e Capricorno, danno i sing la possibilità di svolazzare di fiore in fiore. Lavoro e denaro? Fortunati, svolgete un'attività professionale che vi piace e vi corrisponde pienamente e in più ne ricavate anche un ottimo stipendio o provisioni interessanti. Unico ne ho l'esigenza di velocizzare il vostro ritmo, sempre piuttosto lento, perfezione e rapidità non vanno sempre d'accordo. Supporto da un collega più anziano e navigato di voi, oggi vi dà una mano sotto banco per stare nei tempi. Venere vi provoca. Non vi irritate nell'ambiente di lavoro se qualcuno vi dipinge come non siete e confidate nella stima generale che c'è in giro su di voi. Il vostro carattere accomodante è scambiato per debole, ma non è così. Benessere. Bellocci allo specchio, ma se lamentate una figura troppo morbida ricordate i benefici dello sport. Al vostro segno, corrispondente alla gola e alla bocca mangiare piace, adorate il piatto pieno e impazzite per i profumi invitanti fuoriuscenti dalla cucina. Poi però, chissà perché, lacrimate guardando l'ago della bilancia che sale verso l'alto. Per lei, anche quando lui vi fa arrabbiare non riuscite a tenergli il muso, è un orsacchiotto talmente adorabile che fingete di arrabbiarvi e poi li volate tra le braccia, proprio come in un film strappalacrime. Per lui, potete ritenervi fortunati, sgobbate sodo ma potete contare su uno stipendio più che discreto, con prospettivi di crescita. Non tutti hanno una stella generosa come la vostra. Colore delle emozioni, rosa confetto. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 10, finanze, 10, benessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Buona giornata. Grazie per aver guardato il video.